Dobbiamo cambiare cultura. Il concorso di oggi, i futuri geometri, il progetto dell'accessibilità, ha proprio questo obiettivo. Noi dobbiamo far sì che dalle scuole, i geometri, gli studenti universitari di ingegneria ed architettura, ma qualunque professione si interprenderà bisognerà pensare che lo studio, l'attività dove svolgiamo le nostre professioni siano accessibili a tutta la comunità. Tutti siamo diversi, tutti abbiamo bisogno di avere degli ambienti che ci consentano, qualunque siano le nostre condizioni psicofisiche, di poter interagire con il resto della comunità.